E il prossimo obiettivo? Il prossimo obiettivo è la prossima settimana a Firenze, la maratona. Vediamo di combattere lì con i punti all'altefrica, cioè con i grandi, con i furti, vediamo che ci sia. Così vediamo che il risultato non lo riusciamo a portare a casa. Hai anche di portare a concentrazione? Qual è l'intenzione? Il piacere è che non andare molto avanti, perché se tu magari fai la letta e gli altri sono dietro e riposano io, io mi stanco, quindi è meglio farlo l'inverso. E la concentrazione è su quello. Oggi, ma ci senti adesso, lei è una competizione, non c'era la competizione, però oggi non siete un pò, un campione? Più o meno. Non del tutto, però facciamo prima, per esempio, tutti, con la circuita. Sarò al, diciamo che sono al vertice nei sardi, perché gli altri ragazzi non c'era la competizione di città. Qui, allora, da quello, a San Volo, sono fin da luce, il conto, sui manti, sono veloci, per una nuova particolare.